Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi è 2 aprile e volevo dirvi che oggi è il mio compleanno Compio ben 21 anni, incomincio a invecchiare ragazzi Si sente l'età, sentono le ossa a scricchiolare Ma comunque sia il vostro currer resta sempre su Youtube per farvi compagnia Finché non è la possibilità E ragazzi inoltre, quindi inoltre a darvi questa notizia A rendervi partecipi comunque sia del mio compimento da anni Di ben 21 anni Volevo dirvi che venerdì probabilmente non riuscirò a fare un video Quindi ci incontreremo direttamente, ci vedremo direttamente su Youtube domenica Per un altro video ovviamente Spero di fare un gameplay su qualcosa che mi avete chiesto anche Battlefield GTA E piante contro zombie Vedrò cosa fare per voi E noi ci vediamo alla prossima quindi Bella raga